E allora Bruxelles sdogana la farina di grillo ed ecco è già boom per la produzione, 260.000 tonnellate, pensate, previste entro il 2030. In Italia c'è chi precorre i tempi con relativo strascico di polemiche. Sentite. L'arrivo degli insetti sulle nostre tavole è sempre più vicino, cresce la produzione di cibo a base di larve ed intorni. Il rapporto di Nomisma presentato per la nona conferenza italiana agricoltori evidenzia che la produzione di cibo a base di insetti cresce a dismisura. In Europa toccherà entro il 2030 le 260.000 tonnellate destinarne sintetica per cui si stimano nei prossimi anni investimenti da capogiro. Pari a 1 miliardo e 300 milioni, la produzione della cosiddetta carne in vitro entro il 2030 crescerà fino a 2 milioni e 100 mila tonnellate nel mondo. Da poco sdoganata dalla Commissione europea la farina di grillo, a questa si aggiungono costantemente nuovi tipi di insetti classificati come commestibili da Bruxelles, comprese tutte le varianti di larve della farina. Le nuove generazioni sono quelle che verranno investite pesantemente da queste tendenze, che mettono a rischio l'agricoltura e quindi una grossa fetta dell'economia, senza contare la buona alimentazione. Il cibo sintetico tende a sostituire quello che produce l'agricoltura tradizionale. Se questo avviene realmente l'agricoltura scompare. Se scompare l'agricoltura scompaiono anche dei territori, delle produzioni tipiche e questo noi non ce lo possiamo permettere.